ehi voi potete aiutarmi che cos'è che ti turba amico nel distretto c'è una pazza che getta il malocchio sulla gente con monetine d'argento malocchio beh non esattamente ma usa vecchie monete bizantine ce le infila nelle tasche di soppiatto quando siamo distratti e non è affatto divertente vedrò di dare un'occhiata non ti agitare ecco l'ennesimo furfano non te la caverai così guardie tu ferma che dio mi protegga sono una pulce non valgo un secondo del vostro soldi c'è sultani e fiorini monete quel tintineo soldi monete che bel trucco hai inventato infilare monete senza valore nelle tasche degli uomini ti hanno mai scoperta mai benché di tanto in tanto abbia anche preso del denaro ma soltanto per mangiare perché non fai un uso migliore di quel trucco schierati con gli assassini lavora per una giusta causa beh sarebbe bello far parte di qualcosa più grande di me va bene lotterò con voi farà male a qualcuno se va in giro così ehi tu hai l'aspetto di uno che ha una grande opinione di se stesso ma a me sembri decisamente spregevole che cosa mi dici di questo pidocchio se avessi un messaggio per te amico lo recapiterei a tua madre come osi adesso ti faccio vedere io sta buono e lascia in pace i passanti non ne hai abbastanza siamo pari d'accordo? sei un combattente abile anche tu benché un poco incauto che ne diresti di mettere quei pugni al servizio degli assassini? vuoi dire fare a botte per una causa e non soltanto per diletto? sono certo che potresti addirittura divertirti e vette ti credo unico d'accordo bravissima 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 Cerca di non spendere tutto quel denaro in un posto solo Di quale denaro stai parlando? Signora, riconosco un borseggio quando lo vedo La tua tecnica è buona, ma non perfetta Non direi, fino a oggi nessuno mi aveva mai colta sul fatto Lascia che ti mostri qualche trucco Non mi servono lezioni, posso dimostrarlo Dammi un minuto e ruberò più di quanto tu possa fare in un giorno Bene, comincia Tiranni, siete dei tiranni Prepotenti Basta, andate via Smettetela Gagliaffi Maledetti pidocchiosi, oggi nessuno va in giro con un soldo nella borsa Beh, a me non è andata così male È il tuo giorno della bontà? Non fare il superiore Sono brava a rubare L'hai veduto coi tuoi occhi È vero E ti sarai grato se volessi unirti agli assassini per impiegare meglio il tuo talento Immagino che dovrei, vero? Non posso vivere per sempre del lavoro degli altri Ma che sta facendo?